musica 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 ben ragazzi qui è Dregote oggi siamo qua con un video di Minecraft survival games, siamo qui ragazzi nei survival games degli MGSG in compagnia di Kami Paxmo Pfff ok ragazzi allora mancano 10 secondi siamo qui nella mappa con le aquile, mancano 10 secondi sono assolutamente contento perché ho appena finito di mangiare una goli active plus e quindi di conseguenza riesco a essere carico oddio i chiuduti io mi sa che c'è volume di Minecraft un po' troppo alto mi abbia fatti tra un po' con la basso ma dettagli seguimi allora ce ne andiamo ti la ce ne andiamo di la andiamo corri prendila 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 metta che io devo modificare ecco infatti musica 100% suono roba sia un pochetto lo avrei dovuto fare prima però dettagli ehm cosa se cazzo sta facendo ho preso la cesta oh 5 3 c'è lasciato ma tu sei pazzo questo è spreco della natura ti vergogni bimbo a votare vieni di qua su ok comunque ragazzi le sphx ha aggiornato alla 1.7 quindi di conseguenza i prossimi video che vedrete anche se saranno fatti con la 1.7 ehm comunque qua c'è una testa madonna mia il problema non fa niente ma io voglio andare da una vera nella zona dove vado sempre tipo di qua ecco che mi spado di buon pietro una soltanto eh sì ma io ce l'ho fermo ok allora si un comunque ragazzi questo qui è il novantanovesimo video come ho detto al centesimo ci sarà il draw my life il draw my life basta vieni vieni qua 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 venti qua vieni 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 ok mi chiamano porca miseria non riesco neanche ok allora qui c'è una chest molto cestosa nel villaggio che se non sbaglio è quella qua infatti sbaglio ma era fatto apposta ragazzi in realtà io prendevo questo infatti raga ho trovato un poco di armatura buono ti servono dei pantaloni dove cazzo stai? eccomi eh dai tieni dei pantaloni in pelle c'ho anche un arco però tieni ho quarto cazzo oh si tu prendi qua ok perfetto siamo mezzi corazzati e di dire di andarcene di la camica perché mi ricordo che di qua c'è no no aspetta 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 di qua di qua di qua vieni prima ci arriviamo un pochetto poi andiamo da qualsiasi che c'è il cito non c'è questo tipo infatti sì sì ok posso farmi già la spada di far vabbè veniti qua che magari qua c'è una crafting beh io entro qua dentro allora qua sono ecco qua qua c'è la mandria il formicaio di maiali io proprio ragazzi formiglio grandissimo bomba rifugge un chiascino un chiascino ok o 13 13 costolette buon che poi nella 1.7 tipo hanno ridotto il tempo delle di che ti è l'evoluzione non lo avevano detto diciamo nelle snapshot però quanto pare è così perché cioè ci saremo notato entrambi penso che siamo così tanto pazzi però vabbè un po' passi magari lo saremo però fa niente tu ce l'hai del mo no ok lato del pacio entrato dentro la 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 sionali el circo costru esatto eh cioè un brodo c'è un pezzo di ferro no però vuole essere anche un polpello quindi faccio tutto mh am qua dentro sono io ho due o tre pezzi di ferro quindi se tu ne hai un caso una torta e ancora testa di krie che cazzo sto a dodo ci sta l'acesto ma come questo lo facciamo prendere dov'è qua dove cazzo c'entra dove cazzo c'entra dove è e beh ci entro eeeh ho capito ah ui ecco di qua minchia che mongol che mongoplettico non è vero non si entra di qua belli questi letti vabbè oh dai andiamo a chilare qualcuno andiamo a chilare qualcuno che siamo entrambi full pelle prendete messi entrambi uguali tranne che io l'arco dai usciamo qua fuori usciamo ma tanto non lo quale ci sono più gesti dunque allora torniamo allo spa un seguito ma si troccio eeeh devo mangiare ok andiamo tutto 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 l'alegazze cantaci qualche tua canzone molto bella che io c'è camisa di un cantante me l'ha detto oggi sempre mente anni anni di esperienza ragazzi quadripi troppo lontopo facci vedere diciamo qualcosa del tuo talento insomma perchè. any men amico ragazzi del mondo non è non è non è caricati person Paul possa dire già detto al politico porti ma buono ok 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 cazzo mi sa che sono un po troppo drogato stasera legge la chat ok 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 da cazzo ma c'è proprio nessuno nessuno c'è soltanto un treno che porta all'isola dei pigiama dei pigiama a augur a augur a augur vergognati non so neanche i nomi c'è come ad esempio dire che il ma che il mago più potente del mondo si chiama magro peppino c'è magro si dico mago peppino c'è non più che dregotti non riscoppa ma i dregotti sono dei pupazzi che sono in venti dal 24 di dicembre come riemo di natale è un giardino una capacità di avere una borsa dell'acqua calda all'interno tramite questa borsa dell'acqua calda voi potrete riscaldarli vediamo se qua ci sto innanzitutto arco non mi dico sopra c'è qualcuno c'è stato che mi sembra di aver visto un uomo dico no lo so io so ce ne so allora le allucinazioni eccolo 1 eccolo che come era chi 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 oddio camminanza l'arro camminanza l'attacco non è a full ferro cioè quasi ma che gli mancano anche ma gli manca anche la corazza guardano guardano che è scelta aspetta 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 ottimo odio stiocchi se io ho chiamato alla alla ok latini amica non ce l'ho anche una roba si chiamano che mi chiamano a un lingotto di ferro c'è la merda sull'entere regalo no e cazzo e buscina merda scambio volante per questo punto io ti regalo una bomba ho visto la un tuono tuonoso per forza tu vedi tu ogni giorno c'è l'obbio ti pare che non vedi tuoni tuonoso minchia che vergogna c'è ragazzi è una vergogna questo qua grazie la zona troppo troppo fa allora qua dato che io ho una memoria di un paduro prende qua dentro qua dentro vedi danger attenzione pericolo qui c'è una trappola mi ricordo che per tipo entravi di là dai cazzo non entrare se entri là non esci quasi più perchè è enorme là dentro andiamoci così mi ricordo io ho visto che sono patti qui sono anche i due cartelli danger dangerous dangerous io sono sto entrando dregoscia beh si buonanotte buonamorte aspetta io qua voglio far esplodere cosa faccio utilizzo il mio acciarino o non lo utilizzo si lo utilizzo non puoi spostare niente mongoloi l'ho appena notato l'ho appena notato non ho una sista amica devi uscire lì c'è un c'è un c'è un personaggio ecco andiamo un po' e piccolissimo la grotta di merda oh sarà scritto danger tu devi sempre stare attento ai cartelli i cartelli sono importanti mi ha insegnato mia nonna aspetta ti amo le mie macchine buone al punto giusto basta con dentro rossito la mia gallina dove stai? qua sopra sopra la montagna ho capito ma se la stanno delle persone perchè dobbiamo salire sopra la montagna che al massimo ci trovi il vecchietto quello che si fa oddio 1 2 full ferro oddio cazzo dove stai? sulla montagna stanno nel 2 full ferro non ce ne sono che cacchio stai dicendo? si vede sulla rotaio sulla rotaio dove? vabbè siamo alla parte e andiamo andiamo aspetta aspetta a cucinacolo un po' se uno soltanto andiamo non so 2 perfetto mira perfetto oddio tanto dobbiamo acchilarlo dai tu vai da questo io vado dall'altro eh no che amiciamo questo qua è troppo messo bene è cattivo vedi pure il mio non è che l'ho ucciso avevo la spazio di diamanti era un cazzo di pro l'ho ammazzato con mezzo cuore a te ha scappa 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 eh sì possibile sono l'ho preso già tre volte con l'arco ma adesso forse ci vado di spada è perfetto si è mangiato la meladura camicazza aiuta e fiengo dove stai? ci sta venendo uno con la spada in diamante vicino a te mi chiamo ammazzato perfetto perfetto ok io scappo c'è uno qua che è uscito dalla mappa eh io devo scappare un casino scappa eh forse anche un po' troppo di un casino devo mangiare un panino devo spettami e dammi una mano muoviti 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 aspetta 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 allora lascio il sponsor e cosa mi vuoi dare le frecce c'è la c'è la c'è la c'è la c'è la c'è no lento per se puoi darmi lento per l'ho do vai vai damma tiè ok aspetta adesso me la devo mettere proprio nell'inventario questo è un buon problema forse eh enderper lo sopra quella quella cosa che qualunque cosa sia Vai, vai, vai La mira perfetta Ok, diciamo che Qua vicino alla Una barca Ha preso la spalla, ha preso la barca Attento Dove, dove? Ha preso la barca Non lo vedo, non lo vedo Ecco, eccolo Robigliela barca, robigliela Sì Che fai altre frecce, altre frecce Eh, non posso Non lo posso Non ci spiego più che, non posso No, cazzo Sparati, sparati Ma cosa concludo, due cuori Scappa, scappa Ho un cuore, ho un cuore Scappa, scappa Le cosi può salire, dico, ti è dietro, ti poteva salire Eh, lo so, ma anche se salgono Non ho nulla Da qua si può salire, sali, sali Prova a scapparmene di là, camica È l'unica moto Perché sennò poi di qua mi frega Devo andare di là velocemente Prima che lui riesce a venire a chilarmi Andarmene di qua, guarda Sicuro che non ci stanno le frecce Ce l'ho fatta qua da andare su Come non ci stanno Scappa, scappa Scappa Sto sotto la barca, scappa Sì, 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 ma lo semino Lo semino come Antonio Banderas Con la zappa, con la zappa Cosa c'è con la zappa? Lo semini con la zappa Lo semini con la zappa E' squadra di con la zappa Mamma mia, per favore, camica In questi casi sono abbastanza squali Di queste battute Allora, cosa mi posso servire? Cosa mi posso servire? Frecce, camica Frecce Ad averle, manca niente Eh, vai, allora ci provo poi ad affrontare Laci, ma la c'è, sto sotto di te Dove? Qua, 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 qua Eh, qua, 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 non ti vedo Fermo, fermo Fermo Ora vai avanti Scappa, scappa Non scappare Non scappare, devo scappare Devo scappare Comunque sto carico di cuore Cioè, volendo poi ce l'ho provare a chillarlo Perché No, non ce la fai Scappa Faccio una freccia Dove cercare di recuperare le frecce per te Allora, qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente Quanti siamo? Oh, siamo tre, siamo quattro, siamo quattro Calma, 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 calma Scappa, scappa, scappa Eh, se mi do un ingotto di ferro mi faccio un acciarino, camigazza È un ingotto di ferro, un ingotto di ferro, un ingotto di ferro, un ingotto di ferro Un ingotto di ferro, un ingotto di ferro Grande Che poi tra l'altro ho anche Ho 500 point Ho anche consumato prima, però non fa niente Cazzo, ti potevo dare direttamente all'acciarino, ma sono un coglione Non fa niente, dettagli Dimmi dove sta Cioè, più o meno dimmi dove sta Tieni pure all'acciarino Ok, dimmi più o meno dove sta Qua sotto ci stanno nel cesto Sì, ma poi le avranno già prese, le mica Oh sì, sì, hanno rifillato Eh, vado a prendere qualcosa Dimmi dove sta Se si sta avvicinando dimmelo subito No, in queste case no, non ci sono Vieni, vieni, vieni Esci Allora, ora, vai Vai sempre avanti Vai sempre avanti Di là Bravo, bravo Bravo, bravo A destra Qua? Sì, sali, 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 sali Eh, ma dimmi dove sta quello là Dall'altra parte No, cazzo, non è in questa Aspetta, mi sa che ho sbagliato Nell'altra, è nell'altra Eccola più avanti Scappa Ho capito Dov'è quello là? Aspetta, qua sotto c'è una cesta Qua sotto Cammy, cazzo, è impazzetto Qua sotto No, vabbè, sali, sali, sali Sali in questa casa qua Questa qua qua Questa qua qua Sali, 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 sali Se non mi sbagliate ci dovrebbe Sì, sì, questa qua è quella Con le porte invisibili Apri la porta Chiudi la porta No, nell'altra stanza Nell'altra stanza Questa? Sì No, è in quell'alla di primo Ma non so come cazzo Ah, ecco Entra, entra Cesta, cesta Sono di te Sono di te Che schifo però Schifesse proprio al massimo Comunque siamo Adesso c'è il death Mesh kamikah Dai, dai Ci si può stare Mamma mia Sopravvivenza estrema C'è una porta invisibile Che è una figata Però Sono pronto Sto mezzo Mezzo messo male Ma non fa niente Non pronto Aspetta, prova a prendere tipo Una cesta anche tipo Con No, no, ce ne sono Non ce ne sono Non fa niente Ci provo Non lo so Non, no, conosco troppo bene Sto, 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 mappa Esci Se vuoi prendere un'altra cesta Entra In questa casa qua Qua? Questa qua 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 Perfetto Allora Lì c'è uno Con la mia spada di diamante Cioè questa la forferra è quella che mi fa più paura Devo essere proprio Devo essere sincero Ok adesso gli faccio lottare tra di loro Scappa 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 Cioè Cioè Aia 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 Che dolore Dolore Aia Dolore Scappa Cioè pure la mila quello Cioè proprio Mi sa che mi so alleato con quello là Per ucciderlo Ma non ce la faremo Non fa niente Attacca No Scappa scappa Ho un cuore e mezzo Scappa Un cuore Aiuto Cosa Un cuore Si aveva morto San Marta Vai Gigi Ah Sorda Lol Ok vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Camikaze ma dato delle cose Dei consigli davvero molto utili Comunque Ho spiegato 700 punti per il tuo Non fa niente Verrà ripagato con l'onore degli iscritti Allora Per dare onore Sia a Camikaze Che a me Lasciate un mi piace ragazzi A questo video Mi raccomando Il prossimo video Sarà il draw my life Quindi Per rimanere sintonizzati Diciamo per sapere Quando di preciso Uscirà Codesto video Andate in descrizione Trovate la mia pagina facebook E ogni giorno Comunque sia quando posso Vi pubblicherò Diciamo a che punto è Il lavoro Quindi da 3 volte Camikaze È tutto Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti